Signor Serafino, la sua è una storia di amore che ha commosso tutta Italia, possiamo dire. Lei ha voluto sposarsi con Emanuela. Perché questo gesto, in questo momento particolare della sua vita? Perché come tutte le cose importanti, quando ti accorgi che è il momento, uno deve fare veramente delle scelte importanti. E con lei io devo dire che ho ritrovato veramente l'amore e la gioia di vivere quella cosa che tutti dicono, sì ma 60 anni, la vita inizia a 60 anni e l'amore non lo cercate mai, tanto arriva, se è quello giusto, arriva. E lei, mia moglie, è arrivata nel momento giusto. Emanuela, lui ha già detto tutto e ci ha commosso. Quindi mi immagino che sia stata una grande emozione anche per lei. Tantissimo, perché comunque non ci pensi, poi è arrivata questa cosa così bella, che comunque ti dà speranza. Lei è stato anche in Ucraina. Due volte, sono stato in Ucraina due volte e ci tornerai anche domattina, perché non lo so cosa fa la misericordia alle persone. A me ha dato veramente, chiaramente dopo di lei, mi ha dato la vita, mi ha dato proprio una prospettiva di aiutare le persone. Ecco perché dico a tutti, fate volontari, perché scoprirete un mondo veramente che nessuno se lo immagina.